Ci mancava solo il Covid. In questa stagione anomala e maledetta per i colori neroverdi, ci voleva pure il coronavirus a costringere alla quarantena alcuni tesserati e al rinvio alla sfida con la putiolana. Frattanto, la classifica, con i suoi numeri inoppugnabili e la sua spietata franchezza, ci dice che siamo terzultimi, con soli 12 punti ed una gara da recuperare. Certo, la graduatoria è corta e davvero basta inanellare i risultati utili anche in breve serie per risalire la china, ma intanto si fa sempre più difficile nutrire sogni e ambizioni. La realtà si chiama zona play-out in questo momento, conseguenza di un incipit, per forza di cose e di giustizia sportiva, travagliato e sbandante, con due sconfitte prevedibili in virtù di una preparazione nulla e senza ritiro, quando si rodano schemi tattici e coesione del gruppo. Peraltro arrivavano giocatori di gran vaglia, tanti quanti ne finivano in infermeria. I primi gol subiti, tutti su rigore, erano una dimostrazione palmare del fatto che si era ancora in busca di gioco e automatismo, in attesa che la rossa sontuosa sbocciasse finalmente. Esprassi di luce e in verità se ne erano notati in diversi match, uno su tutti, la trasferta di Sorrento contro l'allora capolista, ma non è stato banale il pareggio col prolifico Lavello né il successo col Portici, artigliato sia all'ultimo respiro ma dopo una dozzina di palle gol. Salvò poi deludere le aspettative con amnesie inspiegabili per calciatori scafati come i nostri, che ci costavano punti pesanti che adesso avrebbero potuto conferire ben altra tranquillità all'ambiente. Frutto, tutto questo, forse del fatto che tanti grandi credono di pedatare in Lega Pro, dove è sufficiente essere superiori tecnicamente per vincere e non serve più di tanto la vispugnandi che altri invece sfoggiano e alcuni fanciulli appaiono non proprio all'altezza del cimento. Ora sguardo la trasferta in terra campana ad Aversa, anche se il morbo invisibile crudele resta in odioso agguato.